Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 19 ottobre, ascoltiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 12, versetti dal 39 al 48. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, cercate di capire questo, se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse, signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti. Il signore rispose, chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel serbo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel serbo dicesse in cuor suo, il mio padrone tarda a venire e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il padrone di quel serbo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il serbo che conoscendo la volontà del padrone non avrà disposto o agito secondo la sua volontà riceverà molte percosse. Quello invece che non conoscendola avrà fatto cose meritevoli di percosse ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Il Vangelo di oggi ci trasmette un avvertimento che Gesù fa ai suoi discepoli esortandoci quindi a cogliere il senso della vigilanza, dell'essere sempre pronti e lo fa attraverso una parabola breve e significativa. Da questa breve parabola posta all'inizio del testo comprendiamo che la vigilanza, il restare svegli, è per Gesù l'atteggiamento fondamentale di ogni discepolo perché Gesù desidera che i suoi discepoli si impegnino a capire come fare per non lasciarsi cogliere alla sprovvista, per non permettere che ricevano delusioni e sconfitte come da questo ladro della parabola che non avvertendo prima il padrone di casa lo sorprende lasciando tanta rabbia nel cuore di questo padrone di casa. Pietro ha voluto cogliere quanto per Gesù fosse importante che si comprenda il tema della vigilanza perché pone una domanda a Gesù e in questa domanda si preoccupa di individuare i destinatari di questo discorso, di questo insegnamento e forse a lui sembra un discorso molto alto per questo chiede signore questa parabola lo dici per noi o anche per tutti. Una questione di cui Gesù non si preoccupa, Gesù qui non risponde in modo così diretto ma risponde certo però aprendo un ulteriore approfondimento e attraverso una seconda parabola più articolata della prima il cui protagonista è un serbo chiamato ad amministrare per un tempo indefinito i beni del padrone. È come se Gesù invitasse Pietro e anche tutti noi, quindi tutti i suoi discepoli, a non preoccuparci troppo dei destinatari di questo insegnamento quanto della situazione interiore in cui ciascuno avverte di vivere perché di fatto questo insegnamento è rivolto a chiunque si senta un serbo che amministra i beni del padrone piuttosto che un serbo che esegue i comandi del padrone che poi si stufa anche ad aspettarlo. Se quindi ci sentiamo come quel serbo che amministra anche noi come il servo della parabola verremo messi a capo di tutti gli averi del padrone. Sembra quindi che ci sia una coscienza e che ci sia un invito a prendere coscienza di come ci sentiamo nel nostro vivere il tempo in cui si attende il ritorno del padrone. E se per un servo questo tempo è utile per aumentare la fiducia, la cura dei beni del padrone, per l'altro servo, l'abbiamo ascoltato, questo stesso tempo distrugge il rapporto di fiducia e disintegra ogni saggezza. Emerge allora nel testo la beatitudine che Gesù proclama verso il servo fidato e saggio, beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Impariamo allora che la vigilanza ci porta ad essere testimoni della fedeltà, della fedeltà di Dio, ad avere parte alla beatitudine del regno dei cieli. Ecco perché Gesù chiude il suo discorso con una frase che ci costringe proprio a riflettere. Lui dice a chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto, a chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più. Il servo saggio e fedele che è anche amministratore dei beni del padrone è sempre pronto a riconsegnare i beni al padrone. Perché? Perché fonda il suo tempo, la sua attesa sulla fedeltà del padrone, sulla fiducia che il padrone ha nei suoi confronti. E noi ci preoccupiamo di dare ciò che ci viene dato o piuttosto di accogliere ciò che abbiamo come se ci fosse stato affidato da qualcun altro, da Dio. Certamente se passeremo il tempo della nostra vita convinti di dare del nostro meglio nel modo migliore possibile qualcosa sicuramente daremo agli altri. Ma se invece il tempo ci servisse a comprendere che niente di ciò che abbiamo oggi ci appartiene veramente e se solo ci rendessimo conto che siamo tutti soltanto amministratori di ciò che Dio ha voluto donarci nella sua bontà, il Signore oggi ci assicura che potremmo dare molto di più di quello che possiamo dare da noi stessi. Chiediamo allora al Signore che ci renda sempre più coscienti di essere stati degni della fiducia di Dio per non lasciarci sorprendere dalle delusioni, dalle sconfitte della vita, per non lasciarci dominare dalla rabbia, dal risentimento verso gli altri. Il Signore si è fidato di noi e allora il Signore ci doni la beatitudine di chi sa restare vigilante, fedele nel tempo, la beatitudine di chi ha capito che in questa vita non ci appartiene profondamente nulla e che l'unico bene di cui davvero vale la pena prendersi cura è la fiducia di Dio che Dio ha avuto verso di noi, è questo amore che Lui ha avuto per noi che non smette mai di riversare su di noi e anche oggi ci affida questo tempo, questo giorno, per essere pronti un giorno quando Lui vorrà a riconsegnargli a Lui, a tutti i fratelli e le sorelle, la grande gioia di quella fiducia che custodiamo nel cuore, la sua fiducia che appunto noi custodiamo nel cuore e che sempre ci rende vivi e ci fa vivere. Buona giornata! Ciao! Ciao!